18.000 grazie, 18.000 come i tamponi che sono stati effettuati in questi mesi dal comune di Pesaro nelle scuole superiori e medie della città di Pesaro. Un'esperienza unica nel suo genere che si conclude oggi 18 maggio dopo anche 18 giorni dedicati appunto ai tamponi nelle scuole superiori e medie. Si conclude qui nella palestra del liceo Marconi di Pesaro questa lunga maratona ciclica che ha portato a testare periodicamente i ragazzi delle superiori e delle medie riscontrando qualche caso positivo, non tantissimo ma comunque una macchina complessa organizzata anche con l'aiuto dell'AIL, della Croce Rossa e della Onlus Gulliver. Tanti volontari, tanti partecipanti che oggi il sindaco Matteo Ricci qui al liceo Marconi ha voluto pubblicamente ringraziare. Siamo davvero soddisfatti perché grazie a questa iniziativa che periodicamente si è ripetuta una volta al mese abbiamo avuto le scuole più sicure d'Italia. Questo è un grande risultato e per fortuna anche da noi i contagi stanno scendendo anche nella nostra provincia. Però voglio ribadire il fatto che Pesaro città non è mai esplosa in questa terza ondata e anche quando intorno a noi avevamo alcuni comuni con dati preoccupanti Pesaro è rimasta sempre sotto la soglia e questo credo che sia dovuto alla responsabilità dei cittadini ma anche a tutte le attività di screening che abbiamo fatto. Ovviamente non possiamo avere nella certezza matematica, scientifica però pensiamo che queste attività abbiano sicuramente aiutato a rendere la nostra scuola più sicura. Sono 18.000 i tamponi che sono stati fatti quindi stiamo parlando di un controllo periodico diffusissimo tra i ragazzi. E tutto ciò è stato possibile non solo e tanto grazie al Comune di Pesaro che ci ha creduto ma grazie a tutti coloro che hanno costruito un modello nazionale a iniziare dall'AIL senza la quale non avremmo potuto fare nulla, la Croce Rossa, l'Associazione Gulliver, la Protezione Civile, tutti coloro che si sono adoperati per questa grande operazione. Voglio anche fare i complimenti a Mila, Giuliana perché grazie a loro tutte le scuole sono intervenute con grande partecipazione. È importante tamponare, è importante fare un monitoraggio continuo, speriamo di fare meglio poi successivamente con i tamponi salivari a settembre quando saranno ormai d'uso comune spero. Perché chiaramente i tamponi salivari potranno essere somministrati anche penso da personale scolastico quindi con estrema facilità e questo ci servirà assolutamente a cercare di tenere decontaminate le scuole dal prossimo anno e questo è fondamentale. Siamo contenti di questa opportunità, è stato uno sforzo organizzativo molto complesso da parte del comune, anche da parte delle scuole nel reperire da una parte gli spazi e dall'altra nel organizzare il movimento dei docenti, nel mio caso e dei ragazzi. Nel centro e del male ci sono spostati verso il Mangaroni quindi qualche difficoltà c'è stata organizzativamente ma il risultato è molto positivo, ha permesso di verificare alcune situazioni soprattutto nelle prime fasi di positività che non hanno bloccato le classi, non tante positività ma ci sono state. Nell'ultimo periodo visto che positivi non li abbiamo avuti abbiamo i ragazzi docenti che vanno a scuola più sereni e più tranquilli in questa fase finale dell'anno scolastico.